salve, voi aspettate, salve benvenuti in questo nuovissimo videozzo oggi siamo su in segreto per vedere una cosa molto importante visto che le tendenze pulllululululu pulllulu, pulllulu, pulllululu quella roba lì comunque, di video sul collegio collegio di su, collegio di giù, collegio di destra, collegio di sinistra Oggi andremo a vedere cosa ne pensano nella mia bellissima serie italiani del collegio Digitiamo il collegio, il collegio Partiamo subito e ci divertiamo Quindi lasciatemi un bel pollicione su, commentate, condividete Fatemi sapere che è il vostro collegiale preferito E fatemi sapere se voi guardate il collegio giustamente Se non lo guardate è inutile Ragazzo di 16 anni A raga A parte che io partiamo già bene Regà Che cacchio vuol dire regà? Già che parti con regà non ha senso Ho iniziato il collegio 3 Virgola Mi sto a tagliare troppo aiuto Mi sto a tagliare troppo aiuto Allora Virgola Giulia è una soggettona ma non sta troppo simpatica Sì, Giulia più o meno Virgola Le gemelle sono bipolari Il tipo che si è andato all'inizio è fregno Ok Va bene E stessa cosa per Gabriele De Chiara Cacchio Eh non mi ricordo i nomi Sta pure nella mia stessa città Ok Ragazzo di 16 anni Perfetto partiamo bene E niente Sto guardando il collegio 2017 Quindi vuol dire Due serie La prima stagione E sto scippando il professore italiano Con tutti i ragazzi maschi Sì Sono Sono normale Ok Non saprei neanche come commentare alcune cose Ragazza di 16 anni Ho sognato il programma Il collegio Il punto è che io non lo seguo nemmeno Magari hai visto un mezzo pubblicità e ti è venuto in mente di sognarlo così Può darsi? Può darsi? Chi lo sa? Uomo di 18 anni Il collegio 3 La Rai poteva evitare di dimostrare la sua linea politica Facendo cantare ai ragazzi Bella ciao Che ne so io Donna di 21 anni Un po' più grandicela rispetto alle altre Vediamo un po' cosa dice Come mai da quest'anno il collegio è diventato così tanto famoso? Prima io e molti non sapevamo nemmeno dell'esistenza Ed ora se ne parla tanto Perché hanno messo gente di dentro Che comunque ha già un seguito sui social Comunque ho visto L'ultima arrivata Così guardando Tipo era 120.000 follower su Instagram Una roba simile Quindi è ovvio che portano Maggior guadagno Maggior visibilità al programma Quindi Donna di 20 anni Non mi sta piacendo tanto questa nuova stagione del Il collegio Boh Sembra che sia in più ingiusto delle altre stagioni Per non parlare delle gemelle Che mi mandano il sangue e il cervello Concordo con me Per quanto sono odiose Vero La prof Petelicchio Petelicchio Forever Number one forever Sia più ingiusto A me sembra quello Mi sembra la stagione più facile Cioè I sorveglianti Sono più bravi rispetto alle altre stagioni Così Ragazza di 16 anni È una delle più grandi Trashate A questo mondo Confermo Per non parlare dei collegiali Le uniche persone decenti sono Gambuzza Che sono Ah che sono Gambuzza Rossi Nestola E quello con i capelli ricci A parer mio Non mi ricordo i nomi però Va bene Ora credo di aver capito Perché tutti guardano il collegio Vediamo un po' cosa 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 ne pensa sta ragazza È veramente trash Tra studio di banalità e finzione Ma finzione non lo so Non lo so Eppure questo insieme fa inaspettatamente Almeno a me Venire voglia Di guardarlo Chi sia per la mia voglia Di voler conoscere Fino a dove può arrivare la mente umana E quali obrobri È capace di compiere Concepire Chi lo sa Una volta davvero Fanno delle cose stranissime Che dici Porca vacca Io ho 14 anni Stavo facendo altro Comunque Cambiano le generazioni Io sono un vecchio Una domanda Ma il collegio È recitato Oppure sono davvero Tutti dei Min 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 Che non hanno neanche Un minimo di educazione Quello il conferma Io spero sia davvero finzione Perché se non hanno un'educazione così Mamma mia Si è messi male Martedì Ok Siccome non c'è niente di bello in tv Ho visto il collegio Davvero L'unica cosa carina È Il collegio L'unica cosa un po' più divertente Se no non c'è niente Mi aspettavo di peggio Peggio di così La vedo difficile Non è tanto brutto Come molti dicono Vabbè I gusti sono sempre soggettivi È stato bello Quando hanno ricevuto le lettere Dei familiari Penso sia il momento più Normale Di tutti È stato bello Quando hanno ricevuto le lettere E hanno pianto tutti Sembrava Finimondo Però mi sembra un po' esagerato Piangere Allora non so quanto ci sono state Però una lettera Non credo sia così Così da piangere Manco andassi in guerra Comunque Sono gusti Ovviamente Però in effetti Sono molto maleducati Quella ragazza che disse Di essere educata Se lo fosse davvero Non avrebbe risposto La prof Perché potete sentirvi fichi Se dite Di non guardare Ad esempio Il collegio Uomini e donne C'è posto per te Ma ognuno guarderà Quello che vuole Giustamente Giusto Nessuno ti vieta di guardare Quello che vuole Quindi Non facciamo una piega Sono una ragazza semplice Perché a me Sono uomo di 20 anni Sto guardando il collegio Vado in su Insta Faccio un boomerang E ho posto sulle storie Ok Perché? Non è niente di meglio da fare Va bene Ragazzi di 16 anni Stasera ho visto il collegio Insieme alla mia famiglia E ad un certo punto Mio papà urla Ecco Io l'anno prossimo Ti iscrivo Lì e almeno impari le regole Mi ha paragonato A quelli che stanno In quel programma Mi sento insultata Dipende come ti comporti Se sei come una del programma È giusto che È giusto che sia Tutta quella cosa lì Però va bene Ragazzo di 16 anni Guardo il collegio Solo per risultare Ogni volta che qualcuno Viene espulso Stupendo Bella Mi piace Donna di 19 anni E con questa perla qua Concludi Non so se è una perla Comunque no Danno visibilità A persone stupide Tipo i ragazzetti scemi Che fanno il collegio Mentre gente Con il vero talento Che cerca di fare Qualcosa online Non se lo caga nessuno Che paese di M Confermo Brava Dovremmo dare più importanza Alle persone che si fanno il mazzo Che fanno delle cose belle Non che fanno Cagate Ragazzi Io vi dico che per questo video C'è tutto Spero vi sia piaciuto Fatemi sapere Cosa ne pensate voi del collegio Qual è il vostro collegiale preferito Spoggiate Commentate Condividete Noi ci vediamo al prossimo video Ciao 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 Grazie a tutti.